c'è sia di qua che di lì, di lì c'è più comodo no no su adesso torniamo giù si può andare di lì però non l'ho fatto per fare il film non fa niente tanto è uno strappettino dai siamo in cima qua che roba no qua c'è il sentiero c'è di lì il sentiero? no di qua no eh allora tocca tornare giù a che roba? spettacolo però voglio dire se c'è di là non lo so perché vedo che va su lì poi diventa stretto e c'è un po' il precipizio però comincia già a angosciarsi figlio fanno i cucci quando la fate ve la dita ed ecco a voi la nambotin superman vola 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 adesso vai avanti te è un po' impestatino però che bello eh adesso andiamo giù non rompere i maroni su bello è quello lì però lo puoi fare tranquillamente sì quel sasso lì lo fai eh vuoi farlo? dai che ti filmo sali in mezzo è un muretto eh non è mica niente è più basso questo di quello che si è scavato nuovo sì ma non è una stupidata